Notte all'addiaccio per centinaia di operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela continuano infatti i blocchi di accesso alle strade e continueranno anche nelle prossime ore. Si protesta contro la chiusura della raffineria e contro la sua mancata riconversione in green refinery e questa mattina anche gli operai del diretto si sono fermati. Sitin dinanzi ai cancelli dello stabilimento si solidarizza con i colleghi dell'indotto. A Gela siamo all'anno zero e purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno. Non ce la facciamo più, sia il diretto in parte, il diretto lei ci garantisce, ma la cosa più drammatica è l'indotto. L'indotto vive ore drammatiche e vive ore veramente di agonia vera e propria e non ce la fanno più, sono lavoratori come siamo lavoratori noi del diretto e hanno il diritto di lavorare. Il lavoro è importante, Gela ha dato tanto negli anni, dopo 50 anni di industrializzazione non può essere trattata in questo modo, è stata vessata ed è stata vessata in modo lento e duraturo, quasi quasi intelligente, dal governo nazionale, occhio eh, dal governo nazionale che ha messo la firma su quell'accordo. Occhio, stiamo parlando del governo nazionale, tra l'altro, non ce la scondiamo, Renzi è venuto a Gela, ha fatto toccati fuga e se n'è andato. Si è fatto gli accordi che doveva fare e si è andato via. Doveva venire ogni tre mesi a Gela, non è venuto neanche una volta. Come mai? Renzi, ti vogliamo a Gela noi, quando discutiamo tecnicamente di cose che vanno e che non vanno. Anche i nostri colleghi del diretto sono stati, diciamo, costretti, tra virgolette, a andare al nord, a lavorare, o all'estero, o nelle piattaforme. Insomma, come chiaramente si capisce, è un disagio che ci coinvolge, anche se non abbiamo il problema della perdita del posto di lavoro come ce l'ha l'indotto, che giustamente si trova meno le commesse per poter lavorare. È sempre comunque un grosso problema. C'è una grossa difficoltà per il territorio di Gela e per tutta Gela, perché sono fermi tutte le cose, il commercio, tutte le cose. Sono in crisi profondamente, perché i redditi sicuri vengono dall'assabellimento. Con una lettera aperta al Premier Renzi, si ribadisce che questa è l'avvertenza di una intera città che non vuole morire e si chiedono risposte immediate sul lavoro e sullo sviluppo con la firma dell'accordo di programma tra Stato, Regione Comune e Forze Sociali che sbloccherebbe gli investimenti e la ripresa produttiva a Gela.